In evidenza Si è riunita a Perugia, al Palazzo Cesaroni, l'Assemblea plenaria della conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. Molti gli argomenti all'ordine del giorno, da normativa alle partnership con il Consiglio d'Europa e con la conferenza dei presidenti delle assemblee regionali europee. Al centro della discussione c'è stata una riflessione sulla spending review licenziata dal governo e in discussione in Parlamento. A Perugia i presidenti dei consigli regionali d'Italia hanno preso una posizione chiarissima. Le regioni e i consigli regionali vogliono fare la loro parte sul contenimento della spesa, è giusto assolutamente arrivare a questo obiettivo perché noi dobbiamo poter garantire servizi alle comunità e ai territori. Però le regioni, anche alla luce della riforma del titolo quinto e della nuova Costituzione, devono avere l'autonomia di fare le loro scelte. Cioè il governo deve dare gli obiettivi, i saldi, ma assolutamente noi vogliamo una rimodulazione, visto che ne siamo responsabili, le scelte dei tagli che dobbiamo effettuare.